quando ero piccolo ricordo che mio padre tornava spesso tardi dal lavoro era la sua passione il sogno a cui stava dando forma oggi ho ancora in mente i suoi occhi pieni di coraggio nel credere di poter costruire qualcosa di unico di bello ed io ho sempre amato sia l'unicità che la bellezza in tutto ciò che mi circonda ogni mattina mi soffermo per qualche secondo ad osservare la natura con i suoi ritmi e i suoi colori per me fonte di ispirazione così come un bel progetto di architettura a un oggetto di design intramontabili perché progettati e costruiti per durare nel tempo attraverso qualità dei materiali creatività e know how quel saper fare unico del nostro territorio italiano ricco di storie e tradizioni pesaro e la mia città natale e della città dove oltre 40 anni fa il sogno di mio padre prendeva forma un luogo dove musica arte natura e artigianalità si fondono per dar vita ad uno dei distretti produttivi più innovativi e longevi d'italia qui ogni giorno insieme a un team di oltre 40 persone porto avanti quel sogno che si chiama italforni un'azienda altamente specializzata nella produzione di forni industriali per il settore oreca con passione e ambizione progettiamo e produciamo attraverso i migliori materiali e le migliori tecnologie i forni del futuro siamo presenti con una rete commerciale capillare su tutto il territorio nazionale ed internazionale insieme a un team di progettisti e tecnologi alimentari cerchiamo di migliorarci ogni giorno di più per offrire ai nostri clienti prodotti innovativi unici inimitabili e performanti posso dire con fierezza di aver realizzato quel sogno nato da mio padre e che oggi si è concretizzato grazie al mio team di lavoro e a tutte le persone che hanno creduto credono e crederanno in italforni perché non c'è futuro senza innovazione ed ogni giorno è importante inseguire unicità e bellezza valori assoluti che mi accompagnano in questa grandiosa realtà che si chiama italforni grazie a tutti